Sono Pierpaolo Figliolino, responsabile del personale dell'azienda De Vizia Transfer S.p.A. di Avellino. Sono iscritto al fondo FASDA ai benefici della copertura sanitaria integrativa dedicata a tutti i dipendenti. Nel tempo ho potuto apprezzare il sostegno personale, nonché l'aiuto economico che tale iscrizione rappresenta per i lavoratori del settore, che spesso percepiscono retribuzioni medio-basse. Come responsabile del personale trovo la questione di fondamentale importanza. Ho utilizzato il piano sanitario in più occasioni, in occasione soprattutto di un infortunio alla mano a seguito di una caduta. Nel giro di un giorno ho avuto un appuntamento con un ortopedico specialista presso una struttura di prestigio su Roma, convenzionata con Unisalute, non pagando nulla. Dopo un po' ho avuto un problema al ginocchio e ho dovuto fare delle terapie, che ho fatto presso uno studio di Avellino, convenzionato con Unisalute, dove mi sono trovato benissimo ed anche qui non ho pagato nulla. In passato ho avuto anche un problema di salute per il quale ho dovuto fare dei follow-up periodici, trimestrali, semestrali, come radiografie, TAC, visite ematologiche, facendo tutto in convenzione e, quando non era in convenzione, pagando il ticket e ricevendo poi il rimborso. Infine ho acquistato degli occhiali da vista e la polizia ha coperto una parte della spesa ed io ho integrato una piccola differenza. Inizialmente pagavo direttamente le prestazioni e chiedevo poi il rimborso del ticket. Nel tempo ho iniziato ad utilizzare le strutture sanitarie convenzionate con Unisalute. Contattavo direttamente la struttura ed inserivo poi le informazioni dell'appuntamento sul sito per avere l'autorizzazione di Unisalute e quindi la copertura diretta delle spese. I tempi sono stati sempre velocissimi e questo per me è una questione di fondamentale importanza, visti i numerosi impegni di lavoro. Penso che la copertura sanitaria offerta dal mio fondo sia un grande sostegno, in quanto copre spese dalle più piccole alle più grandi. Nella mia azienda ci sono colleghi che fanno controlli periodici presso strutture di primo livello qui in provincia senza sostenere alcuna spesa. Questo a fine mese per chi ha redditi medio-bassi può fare davvero la differenza.